8 settembre, Isola, nella chiesetta della Madonna di Loreto si celebra la messa in lingua italiana per la natività della Beata Vergine Maria, un sito questo intriso anche di storia. Le misure di questa chiesa corrisponderebbero a quelle della casa della Madonna che si trova a Loreto, ecco dove è giunta secondo la tradizione da Tersatto, prima in Terra Santa, poi Tersatto, poi da Tersatto a Loreto. E' anche questo richiamo con la casa di Maria. Ma intriso anche di tanti ricordi, lo dicono i connazionali esuli nati a Isola, perché questo luogo li riporta alla loro gioventù e tradizioni. Siamo ormai a 60 anni dall'Esodo e si usa ancora a ricordare i Santi Patroni o a Trieste o anche a Isola, due volte all'anno veniamo qui o a Stroniano per le nostre ricorrenze. Ci veniva a fare le scampagnate, ecco, e oggi me la sento con l'età che gode venire, ecco, io e la mia amica. Mi sono nato a Pirano, mia moglie si è di Isola e ne contava appunto questa tradizione che quando era piccola, quei genitori venivano in processione pregando e cantando da Isola, venivano in processione in questa occasione a Madonna. Purtroppo siamo rimasti in pochi a portare avanti la tradizione di Loreto, ha detto il vino Chicco, uno dei rimasti a Isola. Non possiamo vivere 100 anni, magari, magari, ma insomma arriveranno i giovani anche, no? Speriamo, speriamo, sì. E' seguito il rito religioso in lingua slovena. Le due messe si svolgono anche nell'ambito delle festività della comunità locale del rione di Isola, Iago di Adobrava. Speriamo. Speriamo.